Consigliere Colella, oggi parliamo di mare, la città metropolitana parteceva a questo importante evento. Sì, è una cosa molto importante perché il mare è vita per Napoli e noi della città metropolitana siamo sempre più vicini a tutto quello che può interessare la nostra popolazione. Sempre vicini alla Marina Militare e all'Università Partenope che ci hanno appoggiato ancora una volta per questa bella iniziativa dove ci sono professori e dove finalmente la Marina ci dà ancora tanto spazio. Visto anche la grande ospitalità che ho avuto la settimana scorsa sulla cacciatore e peresiniere Minbelli e ringrazio il comandante Cuciniello per la grande ospitalità. E come città metropolitana noi pensiamo ancora all'ambiente, pensiamo alla possibilità di poter intervenire, il territorio è un territorio vasto e comprende anche il mare. Sicuramente, il mare bagna tutta Napoli e tutta la città metropolitana, quindi la sua provincia. Cercheremo sicuramente di fare qualcosa di importante per il recupero specialmente della zona orientale da Napoli a Castellammare che è una costa veramente da recuperare e da valorizzare. Grazie.